Di Raffaele Giordano e Mario Vitale, l'abbecedario formidabile, canta Salvatore Minieri. Eccoci qua ragazzi, buongiorno, tutti seduti, tutti composti, iniziamo questa nuova giornata scolastica. Mimmo, non fare sempre il solito, dai, facciamo l'appello. Mimmo Varenne, presente. Presente, Raffaele Giordano, presente. Mario Vitale, presente. Salvatore Minieri, presente. Luigi Inverno, presente. Fabio Piatti, presente. Allora ragazzi, oggi studieremo un argomento molto importante, l'abbecedario formidabile. Ascoltatemi bene e seguitemi. F, non essere geloso, sono forza. O, della storia Barresi, io sono orgoglio. R, nessuno mi somiglio, sono rara. Con la M, io sono meraviglia. I, non t'arrabbiare, guardia, sono invidia. I, col giglio sulle spalle, io sono donace. A, per te semplicemente, io sono amore. Con la B, gigante, io sono feggella. L'abbecedario, l'abbecedario. Si fa, cattivo non si fa, con il tuo fare ti spetta il premio della critica. Qui vince la danza della festa, diventa un birichino formidabile. Continuando così, non mi attaccare, spesso sono impeto. L, non c'è confronto, io sono leggenda. E, c'è differenza, io so in eleganza. Batti le manine, canta insieme a me. L'abbecedario, l'abbecedario, fai tale e quale a me. Allora, com'è andata? Vi è piaciuta? No, perché se non l'avete capita la rifacciamo. E mi raccomando, domani partono le interrogazioni. Mimmo, tu sarai il primo.